Amici di Planet TV, siamo qua tornati nel locale dove noi ci ritorniamo sempre volentieri in Bersilia in qualsiasi stagione, estate, inverno, autunno, noi ci siamo Sì, perché qua non si ferma quasi mai, diciamo E' il locale del Bosse Il Bosse, il Bosse, il Bosse è quello che viene in televisione, cioè Briatore Sì, anche lui dirà questo locale, naturalmente E' bello vedere come sceglie i suoi collaboratori, no? Sì, sì E' bello vedere qua che i responsabili di Washington, dal direttore Rampere Polizia Sono passate le Bosse, sono passate le Bosse E sono stati presi Allora, noi diventiamoci E entriamo Ciao! 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 Searching for someone like you Can't do this all alone Venite, venite qua giù Venite, venite qua giù Dove sono? Dove sono? Giù, 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 giù E vai! E vai, e vai! E vai, e vai! 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 No, 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 no No, no, no Vai! E solo la tua, e il moettino E noi le vamos E adesso andiamo, che vada Paterono, noi siamo E... e ragazzi sta continuando la cena via giuica stasera party billionaire in a crowded room searching for someone like you can't do this all alone can't do this all alone is anybody out there is anybody out there is anybody out there i don't wanna be left in this war tonight am i alone in this fight is anybody out there i don't wanna be left in this world tonight say you'll run to my side is anybody out there 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 martina arrosti siete un gruppo affiatatissimo bellissimo fatto da tutte belle donne che venite sempre qua al Twiga vero sono gli affezionados del Twiga l'avellina del Twiga l'avellina bionda del Twiga vero sono l'avellina bionda è vero allora balla come bellina l'avellina e ti chiami? Nadia Nadia bellissima bionda e piano piano per ogni notte si accende questa notte è fatti più bella Alessandro fa una grande festa come ne ha fatte veramente tante al Twiga lui è un veterano del Twiga ha fatto dei tavoli spettacolari e adesso ne sta organizzando uno prossimamente che veramente è da vedere e da immortalare quindi vi aspettiamo tutti quanti al Twiga con il mitico Alessandro sempre circondato da belle donne e la sua carissima amica con bella gente belle donne e tutta gente che si vuole bene viva il Twiga e la sua carissima Salutiamo tutti! Salutiamo tutti Italia! E facciamo un grande saluto alle ragazze del tavolo, Gabriele, Sana, Sheila, Elisabetta e Ilaria. Welcome to Vigilabish Girl! È i dieci anni che siamo fidanzati. Vi siete conosciuti qua a Zwicka, vedi? Sì, sì, sì. Perché a Zwicka si trova moglie. Sicuramente. Andiamo innamorato il Vigilabish Girl! I soldi esclusivi di questa notte. Giro di iscriver voi. Andrea Pini. Il nostro resident DJ. E lo bellissimo salirà Pico Sol. Per farvi mandare, scontare, scatenare tutta la notte. Direttamente dal video netto in quarto tempo. Special guest Andrea Di Mendoza. e anche dal video netto in quarto tempo. E' un'altra notte. Grazie a tutti. Ciao Vino. Ciao Vino. Direttore, direttore come stai? Raffaele Boischio. Grazie a tutti BNR Istanbul BNR Koko BNR Marbella Welcome to BNR Life Ladies and gentlemen Ok, let's get this party started Y'all know what it is One truck, feeling that Come on BNR 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 frustration BNR Andrea D. Mendoza Andrea D. Mendoza Andrea D. Mendoza Andrea D. Mendoza Andrea D biocantica Andrea Dua Andrea Domenza Stefano Sottotitoli Andrea Domenza E allora, signore e signori, questa notte il principe del Twiga ha voluto esagerare in occasione del Forty Billionaire, doppio Gerobalm di Champagne, Robert Gianfardoni Show! Robert Gianfardoni! Robert Gianfardoni! Giro dischi per voi, special guest! Direttamente dal Billionaire di Porto Cervo, Andrea T. Mendoza! Il principe del Twiga, il solo della versina è qua! Ci siamo, ci siamo, da questa estate non abbiamo mai mollato! E questa notte si continua lo show! E ancora una volta si esagera! Tavolo Lopasso! Fiume di Champagne! Danti auguri, Alessandro Bonati! Danti auguri, Alessandro Bonati! Danti auguri, il tempo è qui! Il tempo è ora! Tutti all'altro in mondo! E non sono più di Champagne per il comprato di Alessandro Bonatti. Eccolo qua, eccolo qua, siete sul trono, siete sopra... Sono sempre sul trono. Dove va? Qui che è sempre il numero uno? Qui che è sempre il numero uno della Versilia. Di me non vuoi, ma bottiglia in mano? Io offro, io non bevo io, io offro ai miei amici, guarda. Bevo tutti, io non bevo, devo guidare, non bevo. Bravo, bravo, bravo. Prevete alcol, fate guidare gli altri, lo faccio io. E non mi trovate. Gli altri guido. Bravo, bravo. I tuoi amici chi sono, chi sono i tuoi amici? E' il tuo compleanno. Lui ha festeggiato il numero uno di Spezza, Alessandro Bonatti. Auguri! Ma vedo che siete messi bene, bei uomini ma anche belle donne qua sopra. Eh, guarda, la fidanzata, Lara, Lara, la mia fidanzata. Grazie, auguri! Grazie! Grazie! Auguri! Quino lo show! Nesta roba è il più del più esclusivo in Italia. Vole esagerare! Oramai sono di casa! Alla saluta di Planet TV! Lunga vita Planet TV! Al Tuiga, Domenico e a tutte! Sono di tutte le persone che hanno sempre il territorio. Da ogni appuntamento del 31? E' una grande festa, ogni volta che c'è Domenico qui qua è una grande festa. Ah, a Capodanno? Vabbè, a Capodanno siamo qua. L'unico locale che ha già le prenotazioni di Capodanno. E noi siamo qua. Dviga! Grande Domenico! Il tuo tavolo è sempre una garanzia. Unico projaccia! Voi! Un messaggio straordinario, sei il numero uno, DJ Mendoza, la billionaire qua al Twig. Il che va non mi fermo mai. Quanti chili perdi ogni serata? Sette. Il numero preferito, quindi è quello. Al Twig, DJ Mendoza, la billionaire, straordinario. E qui ti troviamo spesso e volentieri, no? Una volta al mese, anche perché il Twig è una garanzia, quindi non sbagliamoci, non sbagliamoci. Un messaggio straordinario, un messaggio straordinario, un messaggio straordinario. Un messaggio straordinario, un messaggio straordinario, un messaggio straordinario. Mi hanno inserito in questa realtà nuovissima e sono estremamente contento perché in Toscana e penso anche in Italia, ma soprattutto in Bersiglia, il Twiga è il numero uno in tutto. Dietro a Twiga c'è anche Briatore, non so se avete visto il nuovo programma che fa Briatore. È difficile entrare nello staff Briatore perché basta fare qualcosa di qua. Io seguo una cosa che è fondamentale, che è una delle regole del boss. È vero, il boss perché nel programma si chiama il boss. Il boss dice sempre, il boss ha sempre ragione anche quando ha torto. È vero, è vero, è vero. Comunque, quando ci sono successi, insomma, vuol dire che si sbaglia poco qua. Twiga! 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 Grande Mendoza il Consor, serata milionaire! E questa canzone la limitiamo, Davolo John Forgoni! Giro di schi per voi, Andrea P. Mendoza! Si va! Giro di schi per voi, special guest Andrea P. Mendoza! Giro di schi per voi, special guest Andrea Pini, Andrea Pini. Lasciamola presentare perché l'ho inventato io, lui. Suonava nel garage di casa e io l'ho portato fuori. Lui è il mio geppetto. È il mio geppetto. Sono Pinocchio. Mi siete anche dannato. Sono la B, eh. Pinocchio con la B. Eh, sì. Twiga dopo una stagione estiva, penso, la migliore degli ultimi anni. Si sta ripetendo anche quest'inverno. Quindi, per fortuna, i risultati li avete visti voi. Continuiamo così. Lavoriamo sodo. Bisogna lavorare il doppio rispetto agli anni passati per ottenere questi risultati. Però, finché c'è la passione... Finché c'è la passione ci pesa poco. Il venerdì della persiglia è Twiga, sicuramente, perché è l'unica realtà. Ma ora aprirà qualcun altro, poi vediamo. Speriamo che durino, perché più gente c'è in giro è meglio per tutti. È per tutti, è giusto. Bravo, bravo, grande. Buon divertimento. A te tanto. Facciamo vedere che ci siamo. E gli facciamo un grande ringraziamento che questa notte erano qui con noi a Twiga Beach Club. Per il party esclusivo Pignoler. Dai, 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 su con le mani. E gli facciamo un grande ringraziamento che questa notte erano qui con noi a Twiga Beach Club. Per il party esclusivo Pignoler.